In teoria per Pasqua 2018 sarebbero dovuti terminare i lavori del parcheggio della Siena. Voi commercianti di Schiaponte ci credete? Sarebbero, i lavori sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo ci sono state le difficoltà che credo che siano state indipendenti dalle volontà della proprietà e quindi per Pasqua sicuramente non sono pronti. Quanto vi sta penalizzando questa situazione? Tantissimo, da 1 a 10-11. Cioè voglio dire, un discorso fatto più di una volta, il borgo di Schiaponte deve essere chiaramente pedonale, deve essere chiaramente un'isola felice e senza le strutture esterne non hai presupposti per poter avere queste caratteristiche e quindi il parcheggio è la parte fondamentale per poter poi applicare tutto quello che abbiamo detto prima. Lo ha detto lei, il parcheggio è comunque un'infrastruttura privata, fatta su un terreno privato, ma voi sentite la latitanza del comune e dell'amministrazione? Noi sentiamo dell'errore perpetrato nel tempo, cioè voglio dire, non è nell'amministrazione di Enzo, non è quella di Giosi, non è quella di Peppe e di tutti quelli che sono venuti prima. Se proprio c'è un'assenza sta nel fatto che forse bisognava anni e anni e anni fa, ma neanche tantissimi, forse una ventina, quando Scalfati, allora proprietario del terreno, c'è detto il terreno neanche per una cifra enorme. Non so se si sarebbe potuta fare una di quelle classiche opere di esproprio, non voglio entrare in questo particolare, però chi amministra già da allora fino ad arrivare adesso avrebbe dovuto pensare a una proiezione per la zona e quindi appropriarsi, acquistare il parcheggio. Chiaramente adesso il parcheggio è anche una proprietà privata e come dire, mi trovo anche moralmente un po' in difficoltà a chiedere a un privato o ad obbligare a un privato nel dire tu lo fai per noi, è proprietà privata, quindi viene a cadere anche un po' dal punto di vista legale una serie di caratteristiche. Ci si sarebbe dovuto pensare nel tempo, quindi sì, sentiamo la mancanza delle amministrazioni, tutte quelle che sono passate negli anni.